Consigliera Sclocco, ma a chi converrebbe avere una nuova sede dell'Università a Pescara qui nelle aree Excofa? Sicuramente non alla città di Pescara, converrebbe probabilmente alla Regione che avrebbe gli spazi di Viale Pindaro liberati e quindi potrebbe avere la sede regionale tutta insieme lì. Converrebbe probabilmente all'Università perché qui avrebbe delle strutture nuove, ma noi sappiamo che gli studenti universitari si iscrivono all'Università per la qualità degli studi, degli insegnamenti e non perché è di fronte al mare. A Pescara non conviene, qual è la convenienza per la città di Pescara? Zero, nessuna convenienza, a meno che non ci sono convenienze che noi non sappiamo, non ci vengono in mente e che secondo invece il sindaco Masci ci sarebbero. Questa è un'area a vocazione turistica, è l'unico pezzo di terra nella città di Pescara ancora libero davanti al mare. E mettere l'Università significa bloccare di fatto l'afflusso turistico. È necessario che questa zona sia faccia da cerniera tra la Riviera Sud e la Riviera Nord, accanto al porto turistico, quindi è necessario fare progetti che portino un indotto a Pescara turisticamente, commercialmente, in modo da far sì che ci sia un plus. L'Università di fatto blocca, l'Università non porterebbe niente, perché, ripeto, gli studenti si iscrivono ad un'Università perché vale l'Università e non perché davanti al mare. Per cui non riusciamo a capire quali siano gli interessi del sindaco Masci e la convenienza per una città come Pescara.